Ciao bambini e bambina, come state? Guardate un po' con chi sono io oggi. Lei è Lola. Lola è una maialina tibetana, ha due anni ed è un animale domestico, proprio come un cagnolino. Guardate un po'. Adoro i biscotti, proprio come voi. Lei invece è la sua amica Ciuffa. Ciuffa è una gallina, padovana del Ciuffo. Ecco perché l'han chiamata Ciuffa. Sono molto amiche e stanno spesso insieme. Adesso diamo anche un po' di mela, va? Che mi sembra che... Con un po' di mela ci fa bene, eh Lola, che sennò sei in sovrappeso. Ed ora guardate chi c'è qui con me anche. Avete mai visto una gallina così strana? Questa è una gallina moro seta. Moro perché, come vedete, ha la beccuccia e la pelle nera. E seta perché le sue piume sono morbide come la seta. Sono simpatici questi animaletti? Vieni Lola, salutiamo i bambini, dai! Concenti un po'. Lola, saluta un po'. Ciao! Ciao bambini, ci vediamo la prossima volta.